Quante volte in fase di debug hai stampato il log di una variabile per visualizzarne il contenuto e hai ottenuto come risposta il fastidiosissimo ObjectObject? Questo succede quando il valore è un oggetto, ovvero quando l'informazione è contenuta tra parentesi graffe. Utilizzando il metodo JSONStringFile è possibile convertire l'oggetto in una stringa di testo ed osservarne comodamente il contenuto. Guarda questo esempio. Un esempio lo si ottiene provando ad osservare il contenuto del parametro E in un foglio di Google passato alla funzione unedit, oppure ad una qualsiasi funzione attivata da un trigger installabile alla modifica del foglio. Mostro per semplicità il primo caso, mentre il funzionamento del secondo, insieme ad un altro importante attivatore, sarà oggetto della prossima pilola di Apps Script. Tornando al nostro esempio, questa funzione viene eseguita in modo automatico alla modifica del contenuto di una cella. Il parametro E contiene informazioni sul contesto che ha causato l'attivazione del trigger, come ad esempio il valore presente prima della modifica. Se provo a visualizzarne il contenuto nel log, ottengo appunto un risultato non leggibile. Questo tipo di risposta può essere trasformata in stringa tramite il metodo JSONStringFile e convertita in un formato che consente di leggerne il contenuto. Ovviamente vale in questa, come in qualsiasi altra situazione in cui ci troviamo in output, un valore nel formato Object-Object. Un'informazione semplice ma allo stesso tempo molto utile per risparmiare qualche grattacapo. Inoltre aiuterà a capire durante la visione dei prossimi video il motivo per il quale tale metodo viene utilizzato in determinate occasioni. Fammi sapere nei commenti cosa ne pensi di questa videopillola. Inoltre ti invito a iscriverti al mio canale se ancora non l'hai fatto, perché di queste funzioni, trucchi e suggerimenti non bel po' in cantiere. Mi sono creato un repository negli anni che voglio condividere con te. Per il momento ti saluto e ci vediamo al prossimo video, ciao! Ciao!